Sfide a colpi di like, gente che si fa bella, vantando un alto numero di mi piace. Attenzione, perché l'orgoglio potrebbe avere i giorni contati. Il nuovo aggiornamento dell'app di Facebook prevede infatti la possibilità che i like vengano oscurati, esattamente come è accaduto per il fratello minore Instagram. Vogliamo che Facebook sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi, hanno fatto sapere. Ed è proprio questo il punto. Comparare il numero di mi piace con quelli di persone che hanno più successo scatena nelle persone più fragili, tra queste senza dubbio gli adolescenti, la sensazione che non si sia all'altezza, di valere meno. Alcuni arrivano al punto di cancellare i contenuti che non hanno ricevuto abbastanza like. A breve potrebbe essere soltanto chi ha pubblicato il post a sapere il numero di mi piace, senza però poterlo paragonare con quello delle altre persone, in quanto oscurato. Per una marcia indietro probabile, un'altra è già certa, riguarda il riconoscimento facciale. Finora Facebook taggava automaticamente nelle foto postate dagli utenti i loro amici, se questi avevano attivato la funzionalità. Ora invece, se si deciderà di utilizzarla, la tecnologia di riconoscimento facciale avviserà gli utenti delle immagini in cui appaiono e saranno loro a valutare se taggare o meno se stessi. Nel caso in cui non si farà alcuna scelta, il riconoscimento facciale rimarrà disattivato. Meglio così, più privacy per tutti.